Hanno abolito il numero chiuso a medicina, anzi no, questo è davvero il governo del cambiamento, ma stavolta hanno battuto ogni record. Stamattina l'annuncio shock del governo, il numero chiuso a medicina è solo un ricordo. Poi i ministri competenti, il ministro dell'istruzione e quello della salute dichiarano di non saperne assolutamente nulla. Ecco, è un governo di cialtroni veri, perché ad essere in discussione, qui sono le aspettative, i sogni di tanti ragazzi italiani, ma anche la qualità del nostro sistema di istruzione. Noi da questo governo, su temi così importanti, ci aspettiamo più serietà. Pensino piuttosto ad aumentare le borse di specializzazione, invece che fare annunci che forse possono portargli qualche voto, ma di certo fanno male al Paese e ai nostri ragazzi.